E' diventato un appuntamento fisso e atteso da tutti quello del barometro delle cipolle di Urbagna che svelano le previsioni meteo attraverso un'antica tradizione contadina. Per capire meglio che cosa accadrà nei prossimi mesi, ecco che la signora Emanuela Forlini prosegue la tradizione del padre che traccia le previsioni del tempo leggendo i 12 spicchi di cipolla bianca esposti all'esterno nella notte di San Paolo tra il 24 e 25 gennaio. In estrema sintesi l'inverno si mostrerà nei mesi di febbraio e marzo con i segni della stagione fredda ma senza eventi nevosi. La primavera inizia con un bel mese di aprile che regalerà temperature ai miti. L'estate sarà bella ma caratterizzata da un certo tasso di umidità e si protrarrà con il bel tempo fino a settembre. Infine per l'autunno si prevede una stagione con poche piogge fino alle gelate di dicembre già presenti nella sua prima decade. Ma veniamo alle previsioni mese per mese per questo 2024. Gennaio si conferma anche negli ultimi giorni senza precipitazioni, i giorni della merla non fanno eccezione. Febbraio sarà caratterizzato dal freddo con tutti i suoi attributi ma non per tutte e tre le decadi. A marzo prosegue il freddo e tempo variabile, aprile mese prevalentemente bello e mite. Maggio un po' di pioggia nei primi giorni, poi variabile e tendente al bello. Giugno instabilità nella prima parte del mese, per avere il bel tempo dovremo attendere il mese di luglio, mentre agosto qualche instabilità ma in prevalenza bel tempo e caldo. Settembre proseguono le belle giornate con una estate settembrina, ottobre piovoso nella prima decade, novembre sarà il mese più piovoso del 2024 e infine dicembre con un tempo secco e molte gelate.